Bitcoin, si ritorna finalmente sui massimi o ci aspetta ancora un po' di lateralizzazione? Lo vediamo in questo video. L'analisi di oggi sarà estremamente veloce. Un'analisi veloce perché? Perché effettivamente su Bitcoin non è che stia succedendo chissà che cosa. Poi se apri YouTube vedrai tutti in panico, c'è chi dice oh pump è in arrivo, è dump, oddio crolla, oddio vola e tutte le varie cose. Lascia perdere tutto questo rumore e concentrati su quello che realmente sta succedendo sul mercato. E cosa sta succedendo sul mercato? Ragazzi vediamo molto banalmente Bitcoin si sta recuperando quello che era stato l'assorbimento di prezzo che c'era stato più che doveroso visto il pump che è stato fatto. Ma di fatto se andiamo a mettere un grafico giornaliero questa è la situazione, né più né meno. Vediamo che continua a lateralizzare. Quindi c'è ben poco da dire ragazzi. Continua a muoversi in quest'area e in quest'area e si fa il suo sali e scendi. Quindi delle volte testa a rialto, delle volte a ribasso come abbiamo già detto nelle precedenti analisi. Ma di fatto questa è la situazione. Cosa dobbiamo quindi aspettarci nei prossimi giorni? Beh sicuramente del movimento. Vediamo che la volatilità si sta riducendo parecchia, anzi guardiamola insieme. Si sta riducendo e relativamente in una situazione mediana. Quindi non stiamo parlando di chissà quali volumi. Vediamo rispetto a questi volumi che ci sono stati a ridosso di questi movimenti qua. I volumi che vediamo attualmente sono nel range basso. Quindi effettivamente una volatilità relativamente bassa che ovviamente viene riportata sul prezzo come un piattume generale. Appunto questo abbiamo detto è il range, si oscilla e a mio avviso si continua ad oscillare così fino a metà giugno, fine giugno. Quando poi potenzialmente si potrebbero vedere dei bei movimenti. Ricordiamoci che a giugno partiranno anche le contrattazioni su ETH, sugli ETF di ETH. Non si sa ancora bene quando. E quindi anche in quel caso nuovi liquidi. E potrebbe innescarsi un pochino di interesse in più, movimento in più. E anzi visto che abbiamo accennato ETH andiamola a vedere velocemente. Questa è Ethereum. Vediamo siamo relativamente vicino ai top dei 4K. Ci stiamo muovendo un pochino per volta. Pian piano abbiamo fatto un bel pump con la news dell'ETF, del lancio degli ETF su Ethereum. E ora vedremo un pochino come evolverà. Ricordo ancora le contrattazioni non sono partite su Ethereum. Ricordo che c'è Grayscale che ha qualche miliardino da dampare. Vivremo una situazione, se vogliamo, simile a quella di Bitcoin. Comprendendo che Bitcoin è visto in modo diverso agli istituzionali rispetto a ETH. Che comunque, se proprio vogliamo dircela, ci stanno mettendo il piedino. L'abbiamo visto con BlackRock. Quindi bisogna vedere effettivamente che cosa succederà su ETH. Per chi se lo stesse chiedendo, qua sono su The Gate un DEX, quindi un exchange totalmente decentralizzato. Ci si può collegare con che cosa? Con Metamask, con Phantom Wallet o con gli hardware wallet principali. Quindi Ledger, Trezor e così via. E operare direttamente spot in DeFi. Su rete TH con commissioni estremamente basse. Infatti se ti vado a mostrare qua, se io adesso volessi comprare a limite, per esempio, che ne so, qui. Volessi comprare 100 dollari. Vediamo che le gas fee da pagare, le commissioni, sono 7 centesimi. Quindi stiamo parlando veramente di una rivoluzione, a mio avviso, in ottica DEX. Ci permette di utilizzare Order Book. Tutto quello che sono normalmente gli strumenti. Che vediamo anche di TradingView, eccoli qua, per fare le nostre analisi, le nostre cose. Tutto comodamente in DeFi. Quindi è un po' come avere un exchange centralizzato, ma decentralizzato. Senza KYC, senza verifica di identità, senza assolutamente nulla. Come vedi io posso andare a limite, posso andare a mercato, posso comprare, vendere. E una funzione molto interessante sono i grid strategy e i DCA. Io posso andare a impostare il trading a griglia, se voglio. Ed è molto interessante in queste fasi laterali di mercato. Oppure creare i piani d'accumulo. E questo è il motivo per cui utilizzo, la ragione principale per cui utilizzo questo DEX, è proprio per creare i piani d'accumulo. Che come vedi, ci permette di effettivamente crearli ogni quanto vogliamo. Possiamo customizzarli ogni giorno, ogni settimana. Decidere quando partire. Decidere quando finire. E possiamo adesso, se vedi qui questa funzionalità qua, se tu l'attivi, non paghiamo FI. Quindi ogni ordine sarà a zero FI. Quindi possiamo fare un piano d'accumulo su ETH, ma anche su Bitcoin se vogliamo. Perché abbiamo il VBTC. Il VBTC, come vedi. Abbiamo il cambio VBTC-USDC, che è il Wrapped Bitcoin, come fosse una tokenizzazione di Bitcoin. Io posso fare piano d'accumulo da qua. I miei VBTC li posso poi prelevare, portare se voglio, su un CX, come BingX, come MXC e così via, con i principali, che mi permettono di fare il cambio. Oppure usare in DeFi i bridge. Quindi posso assolutamente muovermi. Vediamo che abbiamo tantissimi token su cui possiamo operare. Abbiamo anche Solana. Abbiamo, per esempio, Jupiter. Abbiamo veramente tutti i principali, praticamente. E questo è sicuramente molto interessante. E ci permette di operare in tutta calma, in tutta tranquillità, proprio in DeFi. Tra l'altro c'è una promo. Se ti colleghi a questo DEX con il link che trovi qua sotto nella descrizione del video, entri in un Lucky Draw dove puoi essere estratto. Verranno estratte tre persone che vinceranno 200 USDC. Gli saranno poi accreditati, chiaramente, sul loro conto. E da lì potranno prelevarli, usarli, fare tutto quello che voglio. Quindi mi raccomando, se ancora non stai utilizzando The Gate, provalo. Qua sotto ti lascio il link per collegarti e per provarlo. Un DEX estremamente interessante che ci permette comodamente di fare trading in DeFi su rete TH a costi relativamente bassi. Esattamente come un CEX e soprattutto le cripto sono sempre, sempre in tuo controllo, il che è ottimo. Con questo specchietto su ETH, che abbiamo visto essere in una buona situazione rispetto a quelli che sono i massimi, torniamo sul nostro Bitcoin e andiamo ad analizzare che cosa? Andiamo ad analizzare un pochino i flow, visto che è quello che interessa al lato ETF. Vediamo, il 24 ci sono stati dei buoni flow, il 23, il 22, il 21, il 20, quindi diciamo la scorsa settimana ci sono stati dei buoni flow. Più o meno sia su BlackRock, sia Confidelity, più o meno con tutti, a parte qualcuno che è rimasto un po' a zero, vediamo. Però in linea generale ci sono stati dei buoni flow. Vediamo che GBTC, quindi Grayscale, non ha dampato nulla e questo ha portato chiaramente il prezzo a salire un pochino, come abbiamo visto ovviamente nel grafico precedente, no? Quindi c'è stato un po' di recupero in queste aree e attualmente comunque siamo sempre, ricordo, all'interno del nostro range. Cosa può succedere? Quali sono gli scenari possibili? Noi li andiamo a identificare, ce la posso fare qui, ok. Gli scenari possibili quali sono? Allora, un retest e un ritorno al livello più basso? Possibile, quindi continuare la nostra lateralizzazione di fatto. Una rottura a rialzo con un rimbalzo eventualmente e una ripartenza? Possibile, io questa roba qui la vedo più dopo metà giugno. Stessa cosa a ribasso? Idem, può succedere. Ci possono essere dei falsi breakout in una direzione e nell'altra? Sì. Personalmente quello che vedo più probabile è un continuo di questa lateralizzazione qui. Quindi continuare all'interno di questo range oscillando tra i 60 e i 70k, più o meno in questo range di 10k, vedere il movimento di bitcoin appunto fare un po' di sali e scendi continuo, mettendo un po' di pepe, un po' di paura in entrambe le direzioni. Vediamo lato logaritmico e lato long term che bitcoin comunque si sta comportando relativamente bene anche rispetto ai precedenti episodi. Come vediamo qua, 2016 il ritracciamento era stato molto più profondo rispetto a quello attuale, che tra l'altro è in riassorbimento. Vediamo che appunto questa roba qui è lateralizzazione pura. Da qui probabilmente ci sarà un movimento verso l'alto o uno storno, un ritorno a livelli più bassi. Una cosa importante da sottolineare prima di chiudere è la situazione minimi massimi. Ora, sto vedendo tanti colleghi che parlano del top fantastico, colpiremo i 100k, colpiremo i 120, i 160, i 200k e così via. Non cadiamo ragazzi nell'errore di nuovo, anche quest'anno, di evitare di cogliere delle opportunità per vendere gli asset, in generale altcoin in particolare, ma dove è possibile anche bitcoin. Cioè, se ci stiamo posizionando con l'idea di fare soldi sul mercato degli investimenti, dobbiamo essere consapevoli che non si riesce a comprare i minimi e non si può vendere i massimi. Quando dobbiamo uscire dai mercati? Quando siamo soddisfatti. Essere soddisfatti significa che se io uscissi dal mercato e dopo mi cresce ancora il prezzo, non rosico, non mi girano le scatole. Me ne frega niente perché sono soddisfatto con quello che ho preso. Impariamo a essere soddisfatti sui mercati e impariamo a operare senza stare lì a farci prendere da FOMO, food e da tutti questi claim che purtroppo fanno i miei colleghi che sono acchiappatori di click sul prezzo di bitcoin. Il prezzo arriverà qui, arriverà là. Ragazzi, chi cavolo lo sa dove arriverà il prezzo? Nessuno lo sa. Chi opera realmente in questa industria, chi fa realmente investimento, sa che non potrà mai prevedere i prezzi. Quello che si può fare però, che cos'è? È comprendere se un asset è in una situazione buona per essere acquistato o meno. Quando ci troviamo in questa fase, ecco qua, quindi a ridosso di aree di bottom se vogliamo, questo può essere una situazione buona per comprare. Quindi quando bitcoin mi è sceso intorno ai 15, 16, 17k, era una buona area per comprare, perché che cosa avevo sotto e che cosa avevo sopra potenzialmente. Sopra avevo un recupero fino a 60k, quindi fai da, ipotizziamo, 20k a 60k significa 1x3. D'altra parte, che cosa avevo? Un meno 20k, quindi un azzerarsi, ok? Metti che bitcoin si azzera, perdo 20k. Però io sto puntando 20k per guadagnarne che cosa? Fai 60, meno 20, 40k. Quindi vuol dire un rischio rendimento 1, 2. Questo è un ottimo investimento. Ha senso. Calcoliamo in questo modo. Ora che ci troviamo sui 70k, qual è la probabilità che bitcoin arrivi a fare un per 2? Ni, cioè è relativamente secondo me complessa. Sono un fan di bitcoin come tutti, va bene, tutto quello che vogliamo, però significa andare a rompere, a disturbare i 140k. Possibile? Ni, era sicuramente più probabile che da 20k si potesse tornare a 70k, piuttosto che da 70k andare a 140k, no? Dobbiamo tener conto di questo. D'altra parte si può tornare a 20k, quindi magari da un lato ipotizziamo un target sensato, così da avere un'idea. Magari 120k? 100k se vogliamo rimanere un po' più con i piedi per terra, rimaniamo sui 100k. Bitcoin a 100k, target alto, vuol dire da 70 a 100k, significa che qua dentro ci sono 30k di profitto. Viceversa può tornare, ipotizziamo in quest'area, quindi di nuovo i 20k, quindi significa da 70k tornare a 20k. Ok? È un'ipotesi. E ragazzi è giusto per farvi comprendere il mio mindset quando vado ad operare sul mercato per decidere se e dove entrare. Non sto parlando di pack d'accumulo, quindi di piani d'accumulo DCA. Quelli viaggiano a parte con cifre piccole su orizzonti temporali lunghi. Io sto parlando del breve termine, se io voglio speculare intraciclo, quindi all'interno di questo ciclo qua o di qualsiasi altro ciclo. In questo caso da 70 a 20 significa un meno 50k, ok? Meno 50k. Vale la pena rischiare 50k per mettersene in tasca a 30? Questa è la domanda che bisogna porsi. Quindi dobbiamo imparare ad entrare sui mercati quando il rischio rendimento è sensato, quindi in queste aree. Chi entra in queste aree con un rischio rendimento elevato, fantastico, fa jackpot, se lo fa su chiaramente asset che hanno del potenziale. Se lo si fa a caso su asset del cavolo, ovviamente no. Poi ti ho messo anche qua la dominance. Perché la dominance? Dobbiamo guardare anche quando uscire dal mercato. Quando si esce dal mercato, ragazzi, quando succede questo? Quando ci sono i crolli nella dominance. In questo caso noi stiamo ancora salendo. Quando vedremo fase halving, penso ormai fine di quest'anno, inizio 2025, i nuovi massimi, teniamo d'occhio assolutamente la dominance, esattamente come è successo qua. Qua vediamo ha raggiunto il picco, fantastico. Poi cos'è successo? È iniziato a scendere la dominance. Qui esco, se ho comprato qua e ho venduto qua, mi sono fatto dei profitti, va bene, non stiamo a rincorrere, oh devo raggiungere i 100k, bitcoin arriverà a 100k, vedrai che fa così e poi fa così. No, no. Seguiamo assolutamente come si muove la dominance, come si muovono i prezzi, ma consapevoli in modo realistico di dove potrebbero andare questi benedetti prezzi. Quindi non stiamo lì a puntare necessariamente il top per vendere né il bottom, perché non lo prende nessuno, nessuno, veramente nessuno. Concentriamoci, facciamo dei soldi, visto che siamo qua per investire, e otteniamo profitti. Quando siamo soddisfatti portiamoceli a casa. Se hai fatto più 50, più 100%, stai zitto in cassa, fregatene. Fregatene se poi avresti potuto fare più 200, più 300. No, le opportunità ci sono di continuo sui mercati, su qualsiasi mercato. A maggior ragione è quello cripto che è in continua evoluzione, escono sempre nuovi progetti, c'è veramente un mare di roba. Non stiamo lì a impazzire perché io devo fare il massimo, beccare il top e qui e lì. No, vai tranquillo, vai con calma, osserva il grafico, non stare lì ogni cazzo di giorno a guardare il grafico, perché diventi scemo. Tieniti una parte di portafoglio per fare speculazioni di breve. Tieniti una parte di portafoglio per accumulare long term. Il mio DCA, se mi segui da un po' sul canale, lo sai. Se sei nuovo, ho fatto una marea di video sul come mi vado a posizionare in piani d'accumulo. Cosa faccio? Un piano d'accumulo long term, vuol dire con orizzonti temporali di decine d'anni, dove vado semplicemente a modificare la quantità di quello che sto acquistando. Quando Bitcoin mi arriva a situazioni così elevate, vado a ridurre di tantissimo la quantità. Quando viceversa va a scendere tanto, vado ad aumentarla. In questo modo che cosa faccio? Vado a ponderare quello che è il prezzo medio d'acquisto un pochino a ribasso, in modo da acquistare meglio di più in quantità quando il prezzo è più basso. Non devi per forza far questo. Puoi anche crearti un piano d'accumulo stabile, fisso, che va davanti nel tempo. Quindi se sei alle prime armi, anzi forse è la cosa migliore in assoluto. Ti vai, ti crei il tuo piano d'accumulo, x denaro che vuoi dare a Bitcoin in questa fase, compri e te ne vai tranquillo sulla tua strada. Questa può essere una soluzione. Ogni tanto si compra basso. Si compra quando ci sono situazioni ghiotte per comprare, cioè quando Bitcoin si trova, non dico ai minimi, perché nessuno becca i minimi, ma in situazioni parecchio scontate. Infatti io quello che guardo per poter acquistare Bitcoin sono gli sconti. Quando vedo che ci sono dei saldi importanti, quindi magari Bitcoin a meno 60%, meno 70%, ma anche solo meno 50%, ok, sto comprando scontato. Sto comprando scontato. Va bene. Va bene. Perché significa che per fare un recupero di prezzo mi fa più 100%. Fantastico. È così che dobbiamo iniziare a ragionare. Piuttosto che posizionarsi quando ormai il dado è tratto, Quando ormai tutti parlano di Bitcoin. Fallo. Quando la gente dice Bitcoin è falito, è chiuso, fa schifo, addio, moriremo tutti. È lì che va a fare i migliori affari. Perché le persone vanno a venderlo, perché hanno paura che scenderà ancora, è tutta un'altra serie di cose. Così come quando era 17, 20 mila lo scorso anno, anzi, fine 2022, oddio, no, Bitcoin scenderà a 10k, non comprate adesso perché scenderà ancora. Va bene, se scenderà ancora, si comprerà ancora di più. Intanto mi posiziono. Questa deve essere la logica, ragazzi, con cui ci muoviamo sui mercati. Sempre consapevoli che nessuno ha la sfera di cristallo e nessuno sa effettivamente dove andranno i prezzi, né in una direzione e né nell'altra. Ora hai uno specchietto, relax, questa settimana goditala tranquillo, guardati il mercato di tanto in tanto, perché chi doveva posizionarsi su Bitcoin, se è già posizionato, ora arriveranno pian piano un po' la carne da macello che comprerà a prezzi spropositati. Vedremo come evolverà chiaramente la situazione. Qua sotto ti ricordo, ti lascio i link sia di The Gate, l'exchange DEX per operare in DeX, di cui ti ho parlato prima, sia i vari altri exchange che ho utilizzato per fare questa analisi qui. Non ti dimenticare, mi raccomando, di dirmi che cosa ne pensi di queste fasi su Bitcoin, quali sono i target che stai tenendo d'occhio, scrivimelo qua sotto nei commenti. Se ti va, lascia un like al video e iscriviti al canale per supportarmi. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Musica 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 Grazie a tutti.